Concluso da abbastanza giorni, ma non così tanti, che possiamo definirla una cosa vecchissima, parliamo del grande fratello Vip, che anche se è finito e anche se al di fuori della casa più spiata d'Italia i concorrenti continuano in qualche modo a far parlare di loro, proprio qualche giorno fa pensate che fra tutti gli ex geffini di coloro che hanno partecipato hanno preso parte ad un party, parte ad un party, ad una festa, fotografando, condividendo tutto sui social, come si usa fare. Adesso, prima non si faceva. Comunque, adesso ciò che sta facendo maggiormente discutere riguarda però in particolare un ex concorrente, apparsa sul suo profilo con un dettaglio, ma un dettaglio particolare, che ha fatto pensare che possa essere addirittura in dolce attesa. L'oggetto che ha lasciato intendere che questa concorrente del GF VIP 7 possa essere incinta è una collana. Da diverso tempo, infatti, le donne in attesa utilizzano il ciondolo richiama Angeli. L'ex vipona si è mostrata in una diretta Instagram, senza alcun problema, con questo dettaglio, che ovviamente non è sfuggito ai fan più accaniti del reality. Adesso tantissimi utenti si chiedono se la notizia possa ritenersi ufficiale o meno. Nello specifico parliamo della vincitrice del GF VIP 7, ovvero Nikita Pelizon. Nella serata di mercoledì 19 aprile ha avviato questa diretta Instagram, nella quale è apparsa con un completo molto attillato, dove a spiccare è proprio l'accessorio in questione. A commentare il tutto è stata anche Elenoir Ferruzzi, anche lei ex partecipante del programma. Il suo intervento ha lasciato proprio intuire che si trattasse della collana che solitamente indossa una donna incinta di un bebè. I rumor sulla gravidanza di Nikita appaiono però surreali, in quanto se così fosse l'ex GFina avrebbe concepito proprio all'interno della casa. Per questo motivo la notizia appare improbabile, dato che la Pelizon non ha mai avuto un rapporto intimo nel corso dei mesi nel reality show. Alcuni ipotizzano addirittura che la cosa possa essere sfuggita al pubblico, ma ciò sarebbe assurdo data la diretta H24. In effetti è poi arrivata la smentita della modella triestina, la quale ha affermato, ragazzi, ma il cerca Angeli non necessariamente si deve indossare da incinte. Si continua a parlare anche di ciò che sta capitando quest'anno nei confronti dei partecipanti, compresa la vincitrice, del GF VIP 7. In particolare Nikita non ha ricevuto nessuna chiamata per essere ospitata in televisione, nemmeno nel salotto di Verissimo. Pare in pratica che Mediaset, viste le svariate scene maleducate andate in onda quest'anno, abbia deciso di non voler dare altra visibilità agli ex concorrenti. Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io, che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.